Un caso di meningite in una scuola superiore della Retino. Un ragazzombro ma che frequenta l'istituto Signorelli di Cortona è stato infatti colpito da meningite e meningococcica e si trova attualmente in ospedale. Il caso è stato segnalato dall'asla toscana sud-est che ha invitato i compagni di classe del giovane alla profilassi. Il servizio di igiene pubblica dell'azienda sanitaria ha infatti contattato il dirigente scolastico per informare i genitori dei ragazzi ed invitarli ad effettuare la profilassi antibiotica prevista in questi casi. Non è ancora noto il serogruppo del meningococco che ha colpito il ragazzo. L'asla toscana sud-est ricorda a tutti i genitori e ai ragazzi l'importanza di aderire alla vaccinazione antimeningococcica offerta gratuitamente in Toscana dal calendario vaccinale regionale contro il meningococco C nel secondo anno di vita a 6 e 9 anni ed infine nell'adolescenza. La vaccinazione contro il meningococco B è offerta gratuitamente nel primo anno di vita ai nati dal 2014 e in compagamento nelle altre fasce di età.